L'International Consumer Electronics Show si tiene ogni anno i primi di gennaio. I padiglioni di Las Vegas offrono la più importante vetrina per l'elettronica di consumo. Oltre a prototipi avvenieristici e a idee visionarie ancora in fase di progettazione, nei giorni dell'esposizione vengono presentati anche oggetti pronti a finire sul mercato. Quest'anno tra le strade più battute dai produttori c'è stata quella del rispetto dell'ambiente. Tra gli esempi più riusciti c'è questo cellulare, che grazie a una biobatteria può essere alimentato a Coca-Cola. Sfrutta una tecnologia che genera elettricità dallo zucchero, come fanno molti esservimenti in natura, e assicura una carica fino a 4 volte superiore rispetto alle batterie tradizionali. Il concept è stato realizzato per Nokia dalla 23enne cinese Dai Zizeng. Il corpo del cellulare è completamente biodegradabile e per la verità può essere alimentato con qualsiasi bevanda zuccherina. Se il display vi segnala batteria scarica, potrete sempre attaccarvi a un distributore automatico. Ciao. Ciao. Grazie a tutti